Il Comune di Milano ha deciso che 80 dipendenti comunali, tra i quali 24 vigili urbani che hanno raggiunto i 40 anni di contribuzione, verranno posti in pensione indipendentemente dall'età anagrafica raggiunta, il tutto sulla base della legge del 2011 che dà questa facoltà agli enti pubblici locali. Devono essere pensionati i lavoratori che hanno raggiunto i 65 anni di anzianità o in alternativa i 40 anni di contributi previdenziali versati. In un momento nel quale molti vorrebbero poter accedere al trattamento pensionistico, qui si è creata la situazione opposta. In questo caso numerosi tra questi lavoratori non accettano quella che viene considerata un'imposizione dall'alto e hanno deciso di fare ricorso al Tar della Lombardia. L'annullamento del cosiddetto biennio bianco, ossia la possibilità per i dipendenti pubblici di allungare discrezionalmente fino a 67 anni l'età della pensione, è già scattato dal 2012 per il Comune di Milano. Nelle pubbliche amministrazioni si assume solo una quota parte delle persone che lasciano il posto di lavoro. Quindi il senso dietro a questo ragionamento, cioè il senso di avvalersi di questa facoltà di legge, è proprio quello di dire senza toccare i diritti di nessuno, ma solo per le persone che hanno già maturato i requisiti di pensionabilità e quindi sono già pronti per andare in pensione, lasciare il posto a magari persone più giovani o persone che stanno cercando il lavoro per poter l'anno dopo entrare nella pubblica amministrazione. Non ci è piaciuto il modo, nel senso capiamo le esigenze dell'amministrazione, ci mancherebbe, però avrebbe dovuto convocare i sindacati per esempio e trovare un sistema per poter risolvere questo problema in un altro modo, in un modo un po' più carino. Va detto che chi va in pensione anche magari con 58 anni di età non perde nulla però. Non perde nulla perché questa scelta scatta nel momento in cui sono maturati i requisiti di pensionabilità, il lavoratore e la lavoratrice vengono avvisati con una lettera di sei mesi di anticipo proprio per poter attivare le pratiche con la IMPTA per poter attivare e avere quindi la pensione e quindi non c'è alcun momento in cui il lavoratore o la lavoratrice viene lasciata in una situazione di mancanza di reddito.